Il verbo eterno del Padre sia sorgente di speranza per il continente americano, particolarmente colpito dal coronavirus, che ha inserbato le tante sofferenze che lo oprimono, spesso aggravate dalle conseguenze della corruzione e del narcotraffico. Aiuti a superare le recenti tensioni sociali in Cile e a porre fine ai patimenti del popolo venezuelano.